Buongiorno a tutti da Pancopallino. Questo tipo di video l'ho usato anche per la domenica di Pasqua, per il giovedì santo e anche per la domenica delle palme e lo userò anche oggi visto che è la domenica in Albis. Oggi sarà l'ultima solennità in cui userò questo tipo di video perché poi a partire dal 15 maggio io riprenderò ad uscire e quindi a partire dall'ascensione, da quella solennità, ritornerò a fare le riprese in giro. A dopo! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!